L'idea è nata a quattro giovani pugliesi, Giuseppe Spadone, Francesco Fusco, Ioris Gadaleta e Roberto Ranieri. Idea selezionata nell'ambito del programma Smart & Smart Italia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di incentivare lo sviluppo delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico. Inoltre ha partecipato al percorso di contaminazione BALAB, avviato dall'Università degli Studi e dal Politecnico di Bari. Oscar, così è stata battezzata la colonnina blindata multifunzione unica nel suo genere, offre la possibilità a chiunque di ricaricare i propri device elettronici gratuitamente e in totale sicurezza. Il grande punto di forza del progetto è proprio la gratuità del servizio, non solo per l'utente, ma anche per la struttura universitaria, che ospita Oscar. I costi vengono ammortizzati dagli sponsor, offrendo la possibilità alle università di stipulare un accordo a costo zero, che consente di offrire ai propri studenti un servizio gratuito per ricaricare smartphone, tablet e pc. Numerose le caratteristiche tecniche e funzionali della colonnina, che promette sviluppi e miglioramenti futuri. Università di Bari e Politecnico hanno già firmato la convenzione, con ben 60 colonnine che verranno installate in queste settimane. Il progetto sviluppato dai quattro giovani pugliesi potrebbe rappresentare l'avanguardia della ricarica on the road, destinata ad espandersi su tutto il territorio nazionale e non solo.